Volevo saluto, perché non lo sai ma mi chiede se il tuo numero del gruppo per sei che mi ha detto che mi ha permesso di essere un'interessante. Mi ha permesso di essere un'interessante. Questa invece è una nuova birra. Lui ormai li esperimentano una sua tripe, la usano. Il tripe è basato in un tripe e ti permette di un uomo. Esatto, si, si permette di un uomo. Questa è la terza volta che ho provato. Ho provato tre tipi di uomo. E questo non è vero. Qualcuno? Questo è stato chiamato, con cui abbiamo un uomo organico. Ho bisogno di un uomo organico. Lui usa... People ask me if you're still working in Duvel. Ah, sta ancora lavorando alla Duvel, è bellissima. E poi vanno a fare le sue biologiche, sono tutte biologiche delle sue prime. Siccome questa biologica è nuova, noi facciamo sempre la tripe, il mare fermento e la graniera. Ma invece sulla tripe ha cambiato. Usa come in fermentazione. Ed è la terza tentativa che fa questo. Ogni volta causi a miele. Questo è venuto poco aromatico, diciamo. C'è scritto che viene da qualcuno, ma non sa quale. Warehouse, da un magazzino. E' un po' amaro però, non è a faccia questa. No, infatti. Non ti, non ti, non ti, non ti. Ma guarda, castagna... castagna o cenacola? No, no, ti, non ti sento. Ma sento tutto l'amore che... Guarda, ammite i fiori con il mondo del mondo. Io sono un cittadino, ho impagato i miei e i profumi dai floriboltori. Io sono, grazie mia, giochi travestiti. Cioè, io sono forte queste cose. Lo ho detto, nel fruttato sono fortissime. Questa era la penultima. Questa era la penultima. Questa era la penultima. Che era la penultima. Usava la verità. Biologico. Sì, sì, sì. Grazie. 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 Lui non è un fanatico maniaco dell'organo, del biologico, però è un'idea, lui ama il biologico. Hai anche il biologico, ma non lo fa usato. Sì, siamo biologici, ma il prezzo deve essere uguale, e i nostri RBS sono ritori. A volte, alcuni prodotti biologici sono ritori, e poi ho scelto. Il prezzo significa che non siamo ritori. Se è ragionevole, lui va sul biologico, se è preso sopra nella logica, va sul normale. Hai pensato che l'organico potrebbe aggiungere un'amore, 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 un'amore rispetto a cui potresti usare l'organico ingrediente? Ma è sicuramente un po' di lavoro. La qualità dei prodotti è sempre. Non ha mai problemi di caching, cioè il caching è quella fontana che fa la vita, perché domani non ci sarà il campionato, se qualcuno fa il caching è già un po', non bisogna fare il caching. Cioè, non è la sua macchina, ma c'è un po' di lavoro. Degli lo spiega, perché l'organico è il caching è un po' di lavoro. L'organico è un po' di lavoro. Non ha mai avuto problemi. Quindi non è, cioè non ha rispetto a tutto. Se tu ho compreso ragionevole, preferisco il campionato, sono fantastici. Un altro da noi. Vabbè, non ci vanno come partire, non c'è il caching, ma io sono un pino, magari non lo so. Non c'è il caching, ma io sono un po' di lavoro. No, non c'è il caching, ma io sono un po' di lavoro. No, non c'è il caching, ma io sono un po' di lavoro. No, non c'è il caching.